Non ci arrendiamo, è la risposta del mondo cattolico e delle associazioni ai nuovi bisogni creati dalla crisi economica che dal 2009 sta cambiando le abitudini non solo dei governi ma anche dei semplici cittadini. Infatti nel mondo del no profit nascono momenti di riflessione ma anche risposte concrete. La Caritas ha inaugurato oggi nella capitale Roma Reciproca, una rete del mondo cattolico che si dedica a offrire risposta ai bisogni di famiglie anziani, lasciati soli dai parenti. Abbiamo sentito l'esigenza di guardarci in faccia per mettere insieme le realtà positive che ogni organizzazione, comunità, gruppo impegnato, sono tutte quante le realtà no profit che si impegnano per il sociale e per gli ultimi. Abbiamo sentito proprio l'esigenza di dirci che ci siamo e dobbiamo lavorare insieme. A Milano il Movimento Cristiano Lavoratori ha organizzato in collaborazione con l'Università Cattolica una summer school per umanizzare il mercato e creare un'alternativa all'attuale sistema capitalistico in crisi a favore del no profit. Invece il Forum delle Associazioni Familiari ha lanciato Faro, un corso sistematico per aiutare i movimenti che donano solidarietà a organizzarsi nella maniera più pratica per rispondere ai cittadini in difficoltà. Uno dei passaggi più importanti del Forum delle Famiglie e di tutte le associazioni è proprio quest'idea di chiamare le famiglie a condividere i propri bisogni con le altre famiglie. Quando una famiglia si mette insieme a un'altra famiglia ha già fatto metà del passaggio perché il primo nemico della famiglia è l'isolamento, la solitudine, l'idea che l'ambiente fuori non ti era di aiuto.